volevo fare questa piccola e veloce recensione in favore di audio it volevo ringraziare innanzitutto Stefano e il suo staff Giuseppe che è stato molto professionale nello spiegarmi il funzionamento tra l'altro anche molto intuitivo del cartablet il cartablet adesso è collegato a internet quindi ho tutte le funzionalità delle applicazioni connesse a internet lo scorrimento delle pagine è molto molto veloce quindi vuol dire che il cartablet reagisce bene comunque al movimento il caricamento di internet è fantastico il video è molto molto nitido una volta installato il cartablet la prima cosa che ho notato è stato che avevo perso la funzionalità delle luci ambiente ma Stefano ha deciso di installarmi delle luci che avevano loro in negozio che funzionano tramite l'utilizzo di questo telecomando quindi possono essere accese e per esempio a mio piacimento può essere scelto il colore tramite questa questa sezione qui dove puoi cambiare colore a tuo piacimento inoltre posso decidere tramite i comandi vocali una destinazione se voglio utilizzare l'applicazione di google map audio elite perfetto in più posso scegliere tramite google sempre tramite la funzionalità vocale audio elite tutte le cose da cercare su internet inoltre tramite l'utilizzo di play store posso scaricare qualsiasi applicazione quindi facebook whatsapp tutti i video tutti i giochi che si possono giocare su un tablet devo dire che sono molto molto soddisfatto quindi faccio i complimenti a audio elite a Stefano e il suo staff e